buongiorno a tutti allora maglietta maglietta è perché veramente in questo momento mi resta solo quella comunque iniziamo la giornatona perché oggi sarà una giornatona piena di video poi farò inter live poi mi di tutto di più oggi farò video a iosa comunque ragazzoli partiamo subito con la rubricona del gigione le call news e si inizia con claudia wells chi è claudia wells claudia wells è l'attrice che ha fatto jennifer nel primo ritorno al futuro ma vediamo che fine ha fatto la jennifer del primo ritorno al futuro come dicevamo è un'attrice che è statunitense a 56 anni ha interpretato jennifer parker la fidanzata di marty mccly cioè michael j fos in back to the future che sarebbe ritorno al futuro purtroppo claudia non è riuscita a tornare nessuno dei sequel del film a causa della diagnosi di cancro occorsa purtroppo a sua madre queste le sue dichiarazioni al laughington post nel 2017 mia madre aveva un linfoma al quarto stadio dovevo starle vicino non ho mai considerato di riprendere il mio ruolo e nel profondo della mia anima sapevo che questa era la scelta giusta per me la stessa fu poi sostituita da elisabeth shu nel secondo e terzo capitolo ho recitato in moltissime serie fin della settimana ero abituata a chi voleva autografi e cose del genere ma ho cominciato a capire la mia popolarità più adesso che prima queste le sue parole dal 1991 gestisce un negozio di abbigliamento maschile d'alta moda a studio city in california che si chiama armani wells dopo un breve ritorno alle scene nel 1996 nel film indipendente still waters born uscito in dvd solo nel 2008 la wells recita nel 2011 in alien armageddon quindi ormai diciamo che lei dopo ritorno al futuro non è che si sia dedicata più di tanto al cinema ma ha sfruttato i soldini incassati per aprirsi un negozio libidine in california armani wells fa doppia libidine e vivere così tranquillamente veniamo a notizia triste 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 violentata in gae aulenti un arresto la polizia di milano ha identificato e catturato un italiano di origine egiziana accusato di aver abusato di una donna di 34 anni nell'agosto del 24 agosto 2020 dal il dna lo conferma che è stato lui la notizia però è arrivata il 26 settembre del 2020 la polizia di stato arrestato su ordine del gip un ragazzo italiano di origini egiziane del 97 incensurato sospettato di aver commesso una violenza sessuale il 24 agosto scorso nei pressi di piazza gao a lenti a milano parliamo del 24 agosto 2020 gli agenti erano intervenuti tra viale liberazione via melchiorre gioia dove una donna di 34 anni fortemente scossa ha fermato una volante di passaggio ha riferito di essere stata aggredita poco prima in un prato vicino a piazza gao a lenti la vittima era stata portata in ospedale dove i medici hanno avevano accertato lo stupro le indagini hanno permesso di individuare identificare un ragazzo corrispondente alle descrizioni lo stesso era stato ripreso dalle telecamere di piazza gao a lenti il giovane dopo aver avvicinato la donna insieme ad altri due amici che si erano allanati molto tempo prima della violenza e che sono risultati estranei fatti ha trascinato la vittima in un prato limitrofo alla piazza e l'ha costretta a subire violenza le analisi del dna hanno dato la conferma definitiva della violenza il dna ahimè vi incastra sempre brutale aggressione tra ragazzi nel centro storico di barletta i giovanissimi aggressori tra cui anche minorenni hanno agito in gruppo notizia del 27 settembre 2020 anche oggi le notizie sono veramente veramente antipatica un gravissimo episodio di violenza si è verificato nella notte a barletta in via sant'andrea soprattutto perché ha visto come protagonisti della violenza alcuni giovani ragazzi minorenni gli aggressori reagendo probabilmente hanno scambio di parole dal tono provocatorio si sono scagliati contro tre ragazzi di 25 anni è scattata una rissa a seguito della quale sono rimasti feriti due ragazzi entrambi colpiti con estrema violenza al volto dai giovanissimi teppisti sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando di barletta e la polizia di stato l'azione avvenuta in branco e la brutalità dei colpi con calci e pugni inflitti alle vittime mentre gli altri intorno incitavano alla violenza restituiscono uno spaccato drammatico delle notti barlettane e di certi soggetti che agiscono senza controllo in balia di episodi di insensata violenza come questo purtroppo è una società che va sempre peggio finalmente una bella notizia bella e brutta bella e brutta militare eroe salva due ragazzi e annega ritrovato il corpo in mare a milazzo mattarella colpito dalla scomparsa alta notizia del 27 settembre 2020 militare eroe salva due ragazzi e annega ritrovato il corpo in mare a milazzo a trovarlo sono stati colleghi che con lui lavoravano fianco a fianco il corpo senza vita di aurelio visalli 40 anni sotto ufficiale della guardia costiera annegato il 26 settembre durante un salvataggio in mare di due adolescenti era nelle acque della baia del tono a milazzo una morte tragica sulla quale ora dovrà far luce la procura di barcellona pozzo di gotto che ha aperto un'inchiesta per capire come sia stato organizzato l'intervento di soccorso costato la vita al sotto ufficiale decine le dichiarazioni di politici dai ministri provenzano de micheli di maio guerini la morgesa e parlamentari di ogni partito che hanno voluto commentare il gesto eroico della vittima come spiegano all'ario soccorso la cosa più importante è la sicurezza della scena se non c'è la sicurezza non fate gesti eroici purtroppo l'istinto a volte e qui mi fermo perché ragazzi miei quando ti trovi in una determinata situazione la ragione ti dice una cosa ma l'istinto ti dice di fare un'altra e poi succedono queste tragedie veniamo a una piccola dedica che ho trovato sul web per l'inizio della scuola cari ragazzi e ragazze questo che si affaccia è il vostro anno siete stati costretti come tutti ma con più sacrifici a mettere in pausa i vostri sogni credo non ci sia cosa più brutta d'altronde a me che sono già stato bambino non è mai successo mai un giorno chiuso in casa se non per castigo o per il tempo mai un periodo così lungo senza giocare anche questo era praticamente impossibile ma niente di tutto ciò solo spensieratezza e sogni da rincorrere sì più qualche scappaccione per i voti non positivi a scuola soprattutto alle medie alle elementari no non ho mai avuto problemi alle medie qualche piccola punizione c'era non nulla di eclatante questo lo aggiungo io invece a voi in questo maledetto ultimo anno e diciamo anche aggiungiamoci altri sei mesi è successo di tutto in un attimo sono saltati il pallone la scuola gli amici ed ogni tipo di socialità possibile così a volte mi son detto e se fosse successo a me perciò vi auguro ora che il cielo sembra schiarirsi di riafferrare ogni sogno messo in cantina di riabbracciare con passione il prato di sudare da matti tanto da dove strizzare la maglietta per alleggerirla vi auguro di giocare fino al buio fino all'ultima goccia di sudore vi auguro il divertimento che di questi tempi si è smarrito in un mondo avvolto da una nuvola scura siete l'aria che può tener gonfio il pallone ancora per tanto tempo il carburante che alimenta la macchina del gioco del calcio divertitevi fantasticate sognate è tratto da ci alleniamo anche se piove che è un libro dilettantistico che ha scritto un ragazzo lo trovate qui vi metterò sotto in descrizione il dove trovarlo su amazon comunque perché comunque scrive delle belle cose questo ragazzo e soprattutto credo che visto il periodo faccia molto piacere leggere queste cose ai giovincelli o comunque sentirle anche se ve le racconto io che va bene sono diversamente giovane speriamo in un anno positivo per i ragazzi speriamo che non debbano stare a casa e seguire le lezioni dal computer è vero che magari seguire le lezioni dal computer loro intanto fanno altro fanno finta di guardare la maestra no mettono le cuffiettine intanto magari si vedono i cartoni animali tanto l'immagine della telecamera c'è sempre e al massimo se la professoressa dice lei cosa sta facendo niente professoressa sono qua che l'ascolto che cosa ho detto prima e che cosa devo fare devo ricordarmi io di quello che dice lei va bene a parte gli scherzi ripeto speriamo che si torni alla scuola in presenza senza bullismi ecco in questo momento auguro una scuola senza bullismi una scuola in cui i ragazzi vanno volentieri studiano volentieri ma soprattutto non vadano a scaldare le sedie poi pretendano di essere promossi come si vede nel film la scuola che vi consiglio no perché io sono più per il professore non per il silvio orlando che fa il professore bonista ma sono più per l'altro che giustamente sguardo 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 bisogna studiare il minimo minimo massimo risultato con il minimo sforzo però il minimo sforzo ce lo devi mettere invece tanti vanno a scuola scaldano la sediolina non studiano una beata giovanna e poi si trovano il professore come il silvio orlando che fanno in modo di promuoverli lo stesso anche perché per di più alle scuole non conviene bocciare i ragazzi perché se no se i ragazzi poi decidono di mollare la scuola o di andare in un'altra scuola loro restano con le classi scoperte tanti professori vengono spediti perché non servono più se non ci sono tanti studenti non servono tanti professori e quindi ahimè poi dopo cosa fai curucu infatti si vede nel film la scuola che vanno nelle scuole medie a cercare di reclutare i futuri studenti che finiscono la terza media devono scegliere in che istituto andare e vedi questi professori con la serino la professoressa anziana che vuole raccontare un attimino com'è la scuola eccetera eccetera la loro scuola appunto superiore dove possono poi vabbè c'è quell'altra che fa una battuta sfortunatissima al che prendono e se ne vanno tutti e lei colleghi cosa fate no non fate così comunque vi sto spoilerando troppo guardatelo fin da scuola probabilmente su youtube si dovrebbe trovare è interessante è curioso e ahimè vedrete la conferma di quello che sto dicendo detto questo ragazzoli io mi sono dilungato troppo vi saluto vi ringrazio ci vediamo la prossima ciao 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 ciao